Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese e Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per perdita di carico tra Calenzano e il mio 1 variante verso nord. In A12 resta un chilometro di coda tra Massa e Versilia per chi viaggia verso Genova. E arriviamo in FIPD rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandici e Firenze e Scandici in direzione ingresso città. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali non solo in autostrada in FIPD ma sulla gran parte delle strade della Toscana. E siamo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Firenze Santa Maria Novella. I treni da e per Firenze rifredi potranno subire ritardi o variazioni o ulteriori dettagli nelle prossime edizioni. Buona versi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!